musica 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 buono Ah ti abbiamo beccata Proprio tu che dici di non bere bibite Di non mangiare chips Alla faccia nostra Ma no io non mangio quelle cose Lo sai anzi sto facendo un pieno di salute Quelle forse le mangi tu non io Io mi concedo i miei sfizi golosi Ma senza farmi del male Beh mangiando schifezze Adesso avrai una bella sorpresa Ciao amici e voi cosa pensate stavo mangiando patatine bevendo bibite zuccherate Ovviamente no Ormai mi conoscete mi occupo di salute naturale alimentazione sana e metto in pratica per prima quello che dico Non bevo bibite zuccherate perché hanno troppe calorie e poi alterano l'equilibrio glicemico del corpo Non va bene Ma cosa sarà mai un po' di zucchero? Poi per dimagrire basta mettersi a dieta Ma non c'entra quanto uno è grasso o è magro Gli zuccheri non permettono a nessuno di entrare in quella zona brucia grassi a favore della produzione o del mantenimento della massa magra Qui parliamo di salute non di taglia Poi lo zucchero bianco acidifica e sapete a quante persone provoca infiammazioni e dolori articolari? È proprio così parola di naturopata E le patatine sentiamo cosa hanno di male? Poi non mangio patatine perché sono piene di grassi saturi che fanno danni non da poco Poi è dimostrato che fanno venire la cellulite e hanno troppo sale che fa male alla circolazione E indurisce le mie povere arterie che non voglio stressare Non vuol dire che non sono una persona normale che si vuole concedere ogni tanto degli sfizi golosi eh? Anzi tutti ci meritiamo delle alternative sane per non mangiare quelle cose golose che fanno male Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video Tanti mi piace, tanti nuovi video Finalmente ho trovato degli snack sani ma buoni che posso gustarmi senza compromessi Sono senza parole, perché non me l'hai detto prima? Te lo dico adesso, anzi te li faccio vedere Sono i prodotti della Foodspring che ho scelto come sponsor Perché ha sempre soluzioni fantastiche che mettono insieme gusto ed esigenze nutrizionali Croccante, gustoso, sfizioso Ecco qua, sparkling ammino È una carica di energia con le bollicine Gli amminoacidi si consigliano prima dell'allenamento, in palestra, ma non solo Io li uso per mantenere una buona prestazione fisica e mentale durante la giornata E costruire massa magra È a base di vero succo di pompelmo con guaranà e amminoacidi È zero aromi e zero zuccheri Te costerà un patrimonio Costa quanto una bibita al bar, meno il costo della tua salute Decidi tu E mentre sorseggio la mia bibita al posto delle patatine Mi sgranocchio le mie chips di frutta o verdura croccante Che buona, sono golosa Mi piace l'idea di mantenere la giusta quota di frutta e verdura della giornata anche in forma di chips Senza grassi industriali, zuccheri, additivi solforati Sono super croccanti, invitanti e golose Interessante ma non è che poi squaletto si svuota il pacco intero come fa con le patatine? Non c'è problema, qui si tratta di vera frutta e verdura essiccata che conserva l'80% dei nutrienti Come vitamine, minerali, fibre, proteine e con pochissime calorie Basta mangiarne qualcuna e ti senti subito a posto Non ti viene quella compulsione data dai sapori chimici E non è tutto Ho un'altra sorpresa per voi Intanto per seguire tutti i consigli dei miei video Iscrivetevi al canale È facile, basta un clic così E attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto Quando ho fame fuori pasto mi gratifico con uno snack super trendy a base di noci e bacche Ma non siamo mica nel paleolitico No, ma i cibi sani valgono ancora oggi anche per noi E tra l'altro i cibi paleo sono anche trendy Noci e bacche sono dei super cibi, super nutrienti Hanno il giusto equilibrio tra grassi, proteine e fibre Tutta salute e gusto Io non mangio prodotti che provengono da paesi dove ci buttano tutta la chimica del mondo No, no, no Io cerco frutta secca, selezionata e sicura Come quella della food spring che è biologica, non trattata, non sbiancata, non zuccherata Così ho la garanzia di assumere davvero i nutrienti che cerco E credetemi, non è sempre così Vabbè, allora A me piace mangiare sapendo cosa metto dentro il mio corpo E consiglio anche a voi di fare lo stesso Si chiama alimentazione consapevole E la differenza si vede e si sente In descrizione e nella piccola i qui sopra Vi metto il link alla mia playlist con tutti i video sull'alimentazione sana E anche i miei libri e ebook per essere trendy e sani sempre Condividete questo video con i vostri amici Anche loro meritano di sapere come liberarsi dalle bibite gassate e dalle patatine in sacchetto Portate questi snack con voi al lavoro, in palestra, quando andate a fare yoga Vi aiuteranno a superare la giornata alla grande Noi ci vediamo al prossimo video Nel frattempo, sempre più trendy e sani Con Simona Vignali, naturalmente Ciao Va bene Proprio tu Com'è che ride così?